Shah Raft Lo Shah se n'è andato, così titolano i giornali iraniani. È il 16 gennaio 1979 e Muhammad Reza Pallavi abbandona per sempre l'Iran. Ufficialmente parte per una vacanza in Egitto, di fatto è un esilio volontario da cui non tornerà e morirà un anno e mezzo dopo al Cairo. Anche nel 1953 lo Shah era scappato dal paese ufficialmente per una vacanza, tra l'altro venendo a Roma, e poi proprio da quell'esilio aveva organizzato il colpo di Stato con cui venne poi deposto Mossadegh. Quindi la fuga dello Shah non è affatto la conclusione, la vittoria della rivoluzione, però segna indubbiamente un momento molto importante. In questa occasione le possibilità di una controrivoluzione, la possibilità di un golpe non ci sono. Pochi giorni prima gli Stati Uniti hanno inviato in Iran il generale Oiser che ha constatato appunto la possibilità di un'azione militare qualora il governo Bakhtiar dovesse cadere, ma queste condizioni in Iran non ci sono. Si apre perciò una fase nuova all'interno della lunga crisi che oramai è in corso da quasi un anno e mezzo. Lo Shah se ne è andato, Khomeini è ancora in esilio, ma come vedremo per pochissimi giorni. Il prossimo video parlerà appunto del ritorno in patria dell'Ayatollah Khomeini.